salve a tutti amici di showgarden e bentrovati alla nostra showgarden tv oggi parleremo dello spatifilium lo spatifilium è una tra le piante da interno più amate perché ha dei fiori da una forma molto particolare e un colore bianco splendente lo spatifilium non ha un vero e proprio tronco diciamo che sono una serie di foglie che crescono su se stesse foglie vecchie che si aprono e danno spazio a una forma nuova creando una chioma affolta e rigogliosa due curiosità sullo spatifilium non tutti sanno che il fiore che in particolar modo è apprezzato che qui possiamo vedere ancora in boccio mentre qui bello aperto e rigoglioso non è nient'altro che una foglia perché questo che per noi è il fiore caratteristico dello spatifilium in realtà è una foglia che protegge il vero e proprio fiore che sarebbe questo fiore qua bianco questa sorta di pistillo è molto bello e particolare come pianta tende a diciamo ad accasciarsi un po se sente caldo perciò bisogna sempre stare attenti perché l'errore comune è riempirlo di acqua è vero che è una pianta sempre originaria delle foreste pluviali quindi con un clima tropicale ama l'umido però non va sempre tenuta bagnata porterebbe sempre al marciume radicarle e in seguito alla morte quindi stesso metodo per tutte le piante da interno sentire sempre la terra annaffiare dall'alto verso il basso lasciare scolare e buttare via l'acqua in eccesso dove ce ne fosse ora quando naturalmente ci saranno le ore più calde lo spatifilium tenderà un po ad accasciarsi come se subisse del vero e proprio caldo ma voi non vi preoccupate perché vedrete che con il passare delle ore più calde andando verso la sera se lo spatifilium non ha bisogno di acqua riprenderà il suo aspetto rigoglioso un'altra curiosità dello spatifilium che è una cosa che a me piace molto come idea e mi ha portato ad amare questa pianta quando l'ho scoperto e che è anche una tra le piante da interno che hanno la proprietà diciamo di ripulire l'aria perciò noi la consigliamo sempre anche come regalo per una nascita ideale per stare nella camera di un bimbo o in un salone dove le persone impiegano la maggior parte del loro tempo o in qualsiasi altro luogo amato però saprete sempre che lo spatifilium si cura di voi perché vi pulirà l'aria che voi rispiriate Alla prossima Ciao chemón 走 Ciao ich